Purtroppo la situazione non è semplice perché è un fenomeno in evoluzione, agevolato sicuramente dall'uso distorto dei media, dei social, per cui i ragazzi spesso vengono lasciati da solo a loro interagire con questi strumenti che sono pericolosissimi. Presso il Tribunale di Crotone si è svolta la simulazione di un processo a carico di minori accusati dei reati di bullismo e cyberbullismo messi a segno all'interno di un istituto scolastico nei confronti di altri minori, di cui un ipovedente, un musulmano, trasferitosi in Italia con la speranza di una vita migliore. Il copione dal titolo La Maschera è stato scritto dai magistrati operanti nel Tribunale per i minorenni di Catanzaro per il progetto CHAC, un processo simulato per evitare un processo vero. L'iniziativa è arrivata alla non-edizione, ideato dall'ex presidente dello stesso Tribunale, il dottor Trovato, e portato avanti dall'associazione CHAC Formazione e Legalità. I protagonisti della simulazione sono stati 20 ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Anna Frank dell'istituto comprensivo Antonio Rosmini, che con tanta emozione si sono cimentati ruoli delicati, quali magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, bulli e vittime. Con la loro interpretazione dei vari personaggi coinvolti, hanno saputo trasmettere un messaggio di grande utilità sociale. In effetti qua si simula, quindi non si recita, si simula un processo contro dei ragazzi che si sono comportati male nei confronti di altri ragazzi, che loro forse anche inconsapevolmente non si sono resi conto che in effetti il loro comportamento era proprio un reato, cioè un reato di cyberbullismo e comunque hanno fatto del male a dei ragazzi della loro stessa età, quindi noi dobbiamo renderli consapevoli dei loro comportamenti, dei loro atteggiamenti. Quindi è un progetto sulla legalità e sulla formazione appunto in questo senso. La sensibilizzazione ha rispetto soprattutto dei pari, rispetto degli altri. È chiaro che anche nelle nostre realtà purtroppo si verificano atti di bullismo e anche di cyberbullismo.